Formare figure professionali, versatili, qualificate e preparate nei diversi settori di sviluppo di un'azienda per far fronte così alle diverse esigenze delle imprese Orafe. E' con questo obiettivo che è nato il Master Universitario sulla storia e il design del gioiello, giunto alla sua quinta edizione. Il Master rappresenta uno dei più significativi esempi del rapporto di collaborazione instauratosi tra l'Università di Siena, organizzatrice del Master ed il sistema economico aretino. Un rapporto che si è concretizzato nella messa a disposizione ai partecipanti al Master di alcune borse di studio da parte della Camera di Commercio Confindustria Toscana del Sud e del Dipartimento di Scienze Umane della Formazione di Lingue per l'impresa dell'Università degli Studi di Siena, con sede ad Arezzo. Diamo complessivamente quattro borse di studio all'interno del corso del Master del gioiello. L'intento è quello di aiutare i ragazzi a inserirsi all'interno del mondo del lavoro e direi che complessivamente ci stiamo riuscendo perché oltre il 70% dei ragazzi e ragazzi, tra l'altro, anzi, mi scuso, dottoresse, che escono da questi corsi poi trovano lavoro all'interno delle imprese della nostra provincia e non soltanto. Il Dipartimento di Arezzo quest'anno appunto dà due borse di studio ai ragazzi tramite il laboratorio di oreficeria del Dipartimento. Ci crediamo anche perché i risultati ci sono. Cosa ti piace di questo settore? Beh, è un settore secondo me... ha tante qualità questo settore. È un settore artistico, è un settore creativo, è un settore particolare comunque che mi accompagna a me dalla prima infanzia, adesso l'ho ritrovato da grande, insomma comunque è un pilone importante per la nostra città.